Non solo birra ma anche dell'ottima pizza da Ambaradan, un progetto che ha rivoluzionato la scena della pizza non solo milanese. Sì, ho inventato questa cosa nuova dove si dà una valutazione al servizio, al bere e al mangiare durante la cena o il pranzo e poi in base alla valutazione che si dà, quindi migliorabile che sarebbe la M, insufficiente, si paga un euro in meno di ogni cosa che andrete a degustare a parte l'acqua, il caffè, le bibite perché era difficile fare i conti. Se invece il cliente dà buono paga il giusto, il prezzo normale. Se invece decide di ordinare ottimo, l'euro in più viene dato solo e esclusivamente al personale e dai pizzaioli. Questa è una cosa che per adesso sta andando molto bene, il calcolo abbiamo fatto una percentuale per curiosità e un po' per statistica. Per adesso abbiamo un 80% di ottimi, il resto buoni e 6 migliorabili. Quindi Milano ha reagito bene a questa cosa anche perché pensavo che fosse difficile che dessero la mancia in pizzeria. Invece per adesso va bene. Oltre a questo naturalmente puntiamo molto alla qualità dei prodotti, farine macinate a pietra, solo 10 pizze, 9 per esattezza e una settimanale con ingredienti super selezionati, dal pomodoro San Marzano di OP di Danicop, alla mozzarella fior di latte da Gerola, eccetera, eccetera. Altra cosa interessante, abbiamo una carta dove consigliamo le birre da abbinare ad ogni pizza o addirittura anche il cocktail.